Beh sì, diciamo che abbiamo messo la partita bene nel primo tempo, poi è chiaro, stiamo giocando contro una squadra molto forte ed era normale che una squadra come loro tornasse, quindi merito va a loro di un buonissimo secondo tempo. Partita molto fisica, apertura di una serie play-off che si preannuncia altrettanto combattuta con la gara 2 dietro l'angolo. Se sappiamo questo, ripeto loro sono un'ottima squadra e le piccolissime cose, i dettagli, le palle perse, alcune cose possono fare veramente la differenza.